Sarà inaugurata venerdì 9 settembre alle 18 presso il Museo Civico d'Arte Palazzo Ricchieri a Pordenone la mostra Angelo Giannelli nel centenario della nascita. La mostra presenta una selezione di opere in gran parte di proprietà privata che ripercorrono i punti focali dell'originale ricerca artistica e poetica di Giannelli, un artista di assoluto spessore, autore di piccoli capolavori. Accanto alle grandi mostre, ai grandi eventi, agli appuntamenti di caratura internazionale continua convintamente l'attività di amministrazione per valorizzare gli artisti locali, cioè quegli artisti, quelli intellettuali, quei pittori, quei poeti che hanno dato lustro alla città e che hanno avuto i Natali nella nostra terra. Una mostra di Angelo Giannelli qui al Museo Civico è innanzitutto perché parliamo di un artista di valore che ha, per così dire, sviluppato la matrice espressionista in una maniera personale, poi perché era doveroso nel centenario della nascita a rendere onore alla sua memoria e anche, direi, la memoria artistica dei pordenonesi. E infine anche perché quello della riscoperta, rivalutazione, riesposizione degli artisti che meritano locali, viventi e non qui al Museo, è una delle linee guida della politica museale dell'amministrazione comunale insieme ad altre. Non dimentichiamo che questa mostra si inserisce in una serie di esposizioni che il Comune offre in occasione di Pordenone Legge, ingresso gratuito e con orario esteso rispetto al normale. Cosa vuol dire Angelo Giannelli? Beh, per me è il papà, però è sempre stato anche il pittore, cioè quel personaggio della mia vita che trasponeva, trasportava nei quadri, nei disegni, negli schizzi, anche negli appunti, quello che vedeva, cioè la vita di tutti i giorni. E, differentemente da altri personaggi, i suoi amici che ho conosciuto, eccetera, ogni quadro, quando aveva occasione di chiedergli papà cosa è questo, cosa è quello, aveva sempre un motivo di vita. Cioè, se lui stava disegnando, che so, una casa della nostra pedemontana, diceva, ecco, vedi, i ballatoi sono a nord per essere difesi dal sole, assù ci sono le finestre, quindi c'era sempre un motivo di vita. E questo è stato un grande insegnamento. È una mostra importantissima perché ricorda un pittore altrettanto importante, un pittore che ha vissuto tutta la vita in provincia, ma non era affatto provinciale, come il caso di Zanzotto, per esempio, che ha vissuto tutta la vita a Pia di Soligo, ma è uno dei grandi poeti europei. La mostra è sintetica, però mette in rilievo tutta una serie di opere, ognuna delle quali ha una storia, su questo si potrà essere più esaustivi, magari in fasi successive. Ci sono dei quadri che sono di veri capolavori. La mostra sarà visitabile a Palazzo Ricchieri dal 9 settembre al 23 ottobre, da giovedì a domenica con orario 15.19. L'ingresso è gratuito.